Bene, benvenuti al webinar di oggi dedicato all'operatività ai mercati e ai segnali operativi di aprile. Io sono Fabio Molfese e quest'oggi con Alessandro De Lorenzo, benvenuto Alessandro, e Matteo Bongioni, benvenuto Matteo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Andremo a vedere quelli che sono i segnali operativi. Lo faremo in una maniera, diciamo, un po' più attiva rispetto ai webinar normali, perché andremo a fare dei sondaggi con un'applicazione che si chiama SlayDo, integrata con Webex, e chiederemo a voi, quindi sarete voi, i detti partecipanti del webinar, a scegliere quali titoli andare ad analizzare. Per esempio, adesso vi sto lanciando il primo sondaggio, quali di questi indici vorreste analizzare? Vi si dovrebbe aprire uno SlayDo e vi proponiamo tra il Fuzzimim, il Nasdaq e l'S&P 500, quindi in base al risultato maggiore andremo ad analizzare l'indice che preferite voi. Nel frattempo che rispondete, vi ricordo che su Fineco potete abilitarvi a una serie di servizi gratuitamente, andando qui sul logo, quindi il mio conto, gestione servizi, e qui vi si apre la pagina dedicata al cruscotto delle abilitazioni che potete avere con Fineco, andate su Trading e Investimenti e avete a disposizione una serie di abilitazioni. Quella che vi consiglio per questo webinar è soprattutto l'operatività in derivati, perché? Perché vi consente di avere la quotazione su principali indici future globali e quindi di studiare quella che è la quotazione di questi principali future, soprattutto sull'AREX e sull'IDEM, in un secondo momento quindi di operarvi. Vi sono poi una serie di abilitazioni che potete fare, per esempio la marginazione che vi promette di andare long, a leva, o andare short su determinati titoli, il servizio multicurrency e via via una serie di tantissimi altri servizi. Allora, Alessandro, nel frattempo che gli utenti rispondono passo la palla a te, così potrai iniziare a fare lo sharing tool del tuo schermo e andiamo ad analizzare il Fuzzimib, perché vedo che il Fuzzimib sta, tra virgolette, vincendo con un 50% sul Nasdaq e sull'S&P 500. Quindi io partirei e facciamo 5 minuti di spiegazione tua e poi 5 minuti di Matteo, andiamo avanti così anche per gli altri sondaggi e poi alla fine ci ritagliamo qui 5-10 minuti per rispondere a tutte le domande. Prego. Ok. Allora, devo condividere lo schermo. Aspetta perché ho il secondo. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Ok, ecco. Penso che ora vedete il mio schermo. Sì, sì. Ok. Allora, volevo mettere il grafico tutto schermo. Eh, dovevi aprire il grafico in pop-up col tasto, però adesso se hai già fatto le analisi non ti comprendo. Allora, ok, allora partendo dal, abbiamo detto dal Fuzimib, partiamo da un'analisi sul grafico giornaliero. Utilizziamo adesso l'indicatore Ichimoku. Sul grafico giornaliero vediamo che il, vediamo alcune cose interessanti. Vediamo che da ottobre, diciamo da metà ottobre a inizio, ma a metà marzo, inizio, la primi dieci giorni di marzo, il mercato ha seguito un trend rialzista che è partito esattamente il 13 di ottobre. Trend rialzista che, vedete, si è partito sul minimo dal 13 ottobre, ma si è, diciamo, configurato, leggendo Ichimoku, si è configurato esattamente intorno al primo novembre, i primi giorni di novembre. Perché? Perché abbiamo i prezzi che hanno rotto il rialzo alla nuvola di Ichimoku e allo stesso momento la Lekin Line, che è questa linea ocra, ha rotto anche lei al rialzo la nuvola. Cosa estremamente interessante, vediamo che dopo un periodo di forti rialzi il mercato si è assestato in area 24.500, per poi andare a testare la parte superiore della nuvola a inizio gennaio 2023. Vedete come anche in questo caso la nuvola si è stata particolarmente precisa nel segnalare il supporto. È partito un altro ciclo rialzista, un ciclo rialzista che si è esaurito poi con la crisi, diciamo, la crisi bancaria di inizio marzo. Vedete che il Futsimib ha rotto la trend line costruita dal minimo di ottobre e utilizzando il ritracciamento di fine dicembre e qui ha rotto questa trend line rialzista. La cosa interessante è che andando a calcolare un primo target di prezzo al ribasso, dato dalla distanza della chiusura con il massimo più alto rispetto alla trend line, vediamo che proiettando questa distanza sul punto di rottura della trend line abbiamo come target di questa rottura ribassista un primo target a 24.500, target che è esattamente l'apertura della candela del 20 marzo. Quindi questa proiezione è stata abbastanza precisa. La cosa che però mi preme dirvi per darvi un'idea di medio periodo è che vedete che il Futsimib sta lottando con l'area di supporto data dalla nuvola. Vedete che abbiamo avuto un'apertura sotto la nuvola ma il mercato è andato subito a riposizionarsi nella parte bassa della nuvola di Cimoku e da lì poi abbiamo avuto sostanzialmente dei test dei supporti dati dalla nuvola. Questo sta a significare che il mercato è in una fase di assestamento perché i prezzi all'interno della nuvola segnalano che non abbiamo una vera e propria inversione del trend principale che al momento rimane rialzista ma il mercato si sta assestando. L'altra cosa interessante è che in tutto questo movimento la lag in line che è questa linea ocra che vedete qui non si è ancora avvicinata al supporto della nuvola. Al momento quindi io sul grafico giornaliero sul Futsimib io considererei questa zona come una possibile zona d'ingresso per posizioni rialziste. Qual è il vantaggio di prendere delle posizioni rialziste adesso? È che se andiamo a seguire le indicazioni dati dai Cimoku, la stop loss per questo ingresso potrebbero essere molto ravvicinate. Se usiamo una stop loss molto conservativa, quindi nell'eventualità di una rottura al ribasso dei prezzi sulla lag in line, scusate sulla nuvola, abbiamo un livello di stop loss intorno ai 25.660 punti. Quindi se invece volessimo utilizzare un livello un po' più aggressivo, cioè prenderci un po' più di rischio, al momento vedrei una rottura di questo minimo, di questi 24.500 che equivalrebbe anche a una rottura al ribasso al momento della lag in line. Questo sul grafico giornaliero. Se andiamo invece a prendere un grafico a 4 ore che ci dà un'idea un po' più, ci dà un'operatività un po' più vicina, vediamo che i prezzi stanno rompendo adesso al rialzo alla nuvola, però attenzione perché un vero e proprio segnale rialzista si avrebbe soltanto la rottura della lag in line sulla nuvola, rottura che adesso avrebbe in aria 26.560. Quindi direi che sul grafico a 4 ore, se si volesse prendere il segnale sul grafico giornaliero, potremmo usare appunto i due, combinare i due grafici, il grafico giornaliero e il grafico a 4 ore, e utilizzare il grafico a 4 ore per segnalarci il punto di ingresso. Al momento il punto di ingresso sul mercato rialzista sarebbe 26.560. Perfetto, allora passo la palla a Matteo. Nel frattempo che Matteo mostra il suo schermo, avevo visto una chat di Piero dove chiedeva se la candela del 20.03 poteva essere considerata un breve rimbalzo rialzista, e comunque in una situazione ribassista generalizzata. Magari facciamo l'analisi con Matteo e poi rispondiamo a Piero, ok? Ok, benvenuti, bentrovati. Allora, cosa dire, diciamo che l'anno è iniziato con un mercato sostanzialmente selfish, e le notizie che sono arrivate nel settore finanziario e poi sappiamo, diciamo... Matteo scusa, io non so, ti sento a tratti, non so se è basso, anche Giovanni ci sta dicendo così, non so se... Adesso un po' meglio, però sempre basso, non so perché... Mi sentite? Prova? Adesso? È basso, non so perché se... Ci sono le cuffie. Siamo insieme, io e Alessandro, quindi è strano. Allora, prova ad alzare il volume. Aspettate un secondo che può fare. Sì. Sì. Meglio così? Sì, sì. Vai. Fabio, mi sentite? Forte chiaro, sì, perfetto. Ok, eccoci. Allora, cosa dire? Allora, l'anno è iniziato appunto con le turbulenze nel settore finanziario e come abbiamo visto negli ultimi settimane, in particolar modo nel mese di marzo, i mercati hanno ritracciato in maniera abbastanza significativa. Lo dico che il periodo, diciamo, di marzo storicamente non è mai stato un mese particolarmente bearish, quindi i più importanti minimi, mi riferisco in questo caso al mercato americano e poi in maniera collegata anche con gli altri mercati, si sono spesso e volentieri verificati proprio in questo periodo. Quello che vediamo qui parto da un grafico, in questo caso settimanale, giusto per fare qualcosa un po' di differente rispetto a quello che vi ha mostrato Alessandro. Possiamo appunto constatare questo movimento che ha portato l'indice italiano a testare i minimi a 24.400 punti circa. E questo è un livello sicuramente importante, un livello dove, come vediamo, il mercato si è arrestato, ma questo punto di minimo, se andiamo nel recente passato, effettivamente tende a combaciare con due massimi relativi importanti sull'indice e quindi tecnicamente, come ci insegna l'analisi tecnica, questo è un punto da monitorare e ovviamente adesso è un livello di supporto poiché ci troviamo al di sopra. Allora, sul grafico settimanale, nonostante questo recupero, la tendenza è comunque negativa. Se utilizziamo l'indicatore parabolico, al momento si trova lontano dei prezzi perché è posizionato circa 27.600 punti circa, però il trend di fondo è un trend di un mercato sicuramente non pimpante come è stato nel corso del finale dell'anno scorso. Passando su un orizzonte un po' più vicino a noi, quindi il grafico in questo caso giornaliero, ecco qui possiamo vedere meglio quello che ho cercato di dirvi fino a poco fa, ovvero il fatto che il mese di marzo è stato accreditato da un ribasso molto molto forte. Questo tentativo di recupero effettivamente sul grafico giornaliero c'è stato ed è stato un po' più evidente rispetto a quello settimanale, poiché da due sedute a questa parte abbiamo avuto anche un cambio dell'indicatore parabolico che, lo vedete, adesso si trova al di sotto del grafico di prezzi, quindi ci segnala un trend di tipo rialzista. Ho proposto anche due medie mobili, quella a 200 periodi che è un po' significativa per il cosiddetto ciclo annuale, poi la classica a 50 periodi, queste chiaramente sono ancora in trend positivo perché sono figlie dello storico precedente, quindi hanno una sorta di ritardo. Per quanto riguarda i livelli da tenere monitorati per le prossime sedute, allora sicuramente il punto in cui ci troviamo è un livello di resistenza abbastanza importante, poiché è stato testato nelle recenti sedute varie volte, seguito dal livello della media mobile a 50 periodi, quindi nei pressi circa di 27 mila punti. Un ulteriore allungo da parte del mercato sopra questi due livelli potrebbe portare a una fase di test di questo livello, ovvero 27 mila e 500 punti che rappresenta più o meno il gap down del mercato, questo livello che rappresenta appunto il gap down che c'è stato nel periodo di inizio marzo. Un ulteriore allungo sopra questo livello porterebbe chiaramente il mercato a testare i massimi relativi di questo movimento. Questo è uno scenario che personalmente mi stupirebbe parecchio, visto tutte le problematiche che sono sul tavolo, sia da un punto di vista finanziario che anche geopolitico. Dopo ovviamente il mercato come sempre ci darà le risposte giuste. In caso invece di ribasso sicuramente un livello importantissimo da tenere monitorato è questo, ovvero il minimo della recente candela. Io penso che un'eventuale violazione con rottura su prezzi di chiusura di questo livello nei pressi di 26 mila punti, questo sarebbe un segnale di un ritorno abbastanza forte di un mercato di tipo Beris. Quindi eventuali posizioni lunghe di breve termine credo che al di là dopo del singolo stop loss debbano essere chiuse nel caso di un ritorno su questa soglia. Perché questo? Perché un'eventuale discesa avrebbe generato o sarebbe un primo segnale di una conferma dell'inversione. Quindi il fatto che qui il mercato sia salito con massimi e minimi di periodo crescenti, ecco un ritorno abbastanza tempestivo sotto 26 mila punti avrebbe invece innescato un movimento al contrario, quindi una serie di massimi e minimi di tipo decrescenti. Target di un eventuale movimento Beris molto significativo sarebbe da posizionare sui recenti minimi, quindi nei pressi di 25 mila punti, seguito poi dalla media a 200 periodi che si trova adesso poco sotto i 24 mila punti. Perfetto, poi non so se la domanda invece... La domanda era la candela del 20 marzo, la candela del 20 marzo potrebbe essere considerata un'interruzione del movimento più generalizzato ribassista o no? O è una candela che ti dà un impulso per la continuazione? Mi senti? Mi senti? Sì, dimmi. No, dicevo, la domanda di Piero era la candela del 20 marzo è da considerarsi come una candela effettivamente di inversione del trend o di un momentaneo rimbalzo a cui poi seguirà una continua discesa generalizzata? Il 20 marzo? Dovrebbe essere quel candelone lì, credo. Sì. Allora, beh, questa è una candela ovviamente di inversione perché ha formato un minimo, poi è stata una candela di ampia volatilità con un corpo molto esteso e la chiusura della candela stessa è stata sui massimi di tutto il range della candela. Quindi tecnicamente se andiamo ad analizzare la singola candela è effettivamente una candela di inversione, no? Questo lo capiamo dalla conformazione della candela ma poi anche osservando il grafico alla nostra sinistra perché vediamo che effettivamente arrivavamo da un movimento ribassista. Ecco, quello è sicuramente un punto importante sia per quanto riguarda l'analisi tecnica che poi anche per l'analisi ciclica. Da lì è partito un nuovo ciclo, ecco, questo posso confermarlo. È ovvio che la partenza di un ciclo ha una, come dire, una sorta di inerzia nelle fasi iniziali, poi comprendere quale sarà la natura del ciclo è un po' più articolato. Se sarà un ciclo particolarmente forte allora ci dovrà essere la violazione dei recenti massimi del ciclo precedente. In caso contrario avremo una fase di debolezza e i due livelli, quindi quello che vi ho tracciato qui al grafico e poi il livello di questa candela sono i punti cruciali da tenere monitorati perché qualora ci fosse una violazione al ribasso di questi livelli anche in maniera tempestiva allora siamo di fronte a un movimento ciclico che ha molto tempo a disposizione per poter... ...risposto però spero di aver dato qualche indicazione in me. Sì, va bene, allora nel frattempo io lancio il secondo sondaggio e qui chiediamo quale di queste azioni vorresti analizzare. Abbiamo selezionato Microsoft per le recenti notizie su chat GBT, quindi magari potrebbe partire un movimento interessante su Microsoft. Bank of America per quello che sta succedendo in America, che è successo in America. Intera San Paolo un po' per quello che sta succedendo sulle banche anche europee. E Volkswagen per il settore automotive. Io adesso vado a passare la palla ad Alessandro. Ok, perfetto, così anche lui ha il tempo di condividere il suo schermo. Aspettiamo qualche secondo e poi andiamo a selezionare il titolo. In questo momento c'è Intera San Paolo che sta al 51%, Microsoft al 14, Bank of America e il 20% di Volkswagen. Aspettiamo ancora qualche secondo e poi selezioniamo il titolo. Però mi sa tanto che è intesa San Paolo. Ma immaginavo, eh. Andiamo in casa. Sì, esatto. Vai, possiamo andare allora. Allora, ovviamente quello che ci siamo detti sul FuziMib, essendo il FuziMib sbilanciato sul settore bancario, sostanzialmente il grafico del FuziMib è molto simile al grafico d'intesa. E non il contrario, cioè sono le banche che la fanno da padrone sul FuziMib, quindi quello che abbiamo visto sul FuziMib lo rivediamo esattamente su Intesa San Paolo. Cambiano ovviamente i livelli. Abbiamo esattamente la stessa conformazione del grafico. Vedete, abbiamo un minimo il 13 ottobre. C'è stato un test della parte alta della nuvola intorno al 20 di dicembre. E adesso siamo in questa fase dove Intesa San Paolo, dopo questa caduta che ha portato il titolo a fare un minimo intorno a 2,08, adesso Intesa sta combattendo con i supporti dati dalla nuvola. Supporti che adesso sono a 2,28 euro. Stessa cosa che ci siamo detti per il FuziMib. Quest'area potrebbe essere un'area di ingresso per prendere una posizione al rialzo. Ripeto perché? Perché per i più conservativi si ha uno stop loss veramente molto vicino al punto di ingresso perché in caso avremo uno stop loss esattamente, adesso il titolo quota 2,30 euro, avremo uno stop loss per i più conservativi sulla rottura con una chiusura del giornaliero sotto i 2,28 euro, diciamo. Per i più propensi al rischio si potrebbe aspettare che la lag in line rompa al ribasso la nuvola che sarebbe intorno ai 2,15 euro, che corrisponderebbe anche alla rottura del corpo della candela del 20 marzo, sempre intorno ai 2,15 euro, 2,10 euro. Quindi sul grafico giornaliero quello che vediamo su Intesa San Paolo è esattamente questo. Sul grafico a 4 ore, se vogliamo avere invece dei punti di ingresso un po' più stretti, quello che vediamo sul grafico a 4 ore, che al momento il grafico a 4 ore ci suggerisce una posizione ribassista, perché vediamo che i prezzi sono sotto la nuvola, la lag in line sotto la nuvola e anzi è una posizione ribassista che sarebbe stata aperta a 2,44 euro e al momento i prezzi si stanno avvicinando alla nuvola del 4 ore. Quello che potrebbe essere, se il sentiment di mercato rimane ribassista nel breve periodo, quello che potremmo vedere è i prezzi che vanno a toccare l'area della nuvola, quindi trovano una resistenza forte intorno ai 2,35 euro e se il mercato è realmente ritornato ribassista, i prezzi verranno respinti dalla nuvola e proseguiranno la loro strada ribassista. Andando a guardare il grafico a 4 ore e andando a guardare il grafico giornaliero, su Intesa San Paolo, quello che si potrebbe fare è stare attenti col sizing delle posizioni, cioè per chi vuole per forza stare a mercato, su Intesa San Paolo si potrebbe considerare di aprire una posizione corta, avendo come stop loss la rottura di 2,35 euro, e posizione corta sapendo però che il grafico giornaliero è orientato al rialzo, quindi non utilizzerei tutto il capitale per aprire una posizione corta su Intesa San Paolo. Diversamente se dovessimo avere una rottura rialzo dei prezzi sulla nuvola, che è poi confermata anche dalla leg in line sulla nuvola, cosa che adesso avrebbe in area 2,44 euro, diciamo 2,44 euro e 2,50 euro, allora troverebbe conferma il grafico giornaliero, scusate, il grafico a 4 ore troverebbe conferma anche sul grafico giornaliero, e che darebbe molto più fiducia a una posizione rialzista. Andando poi a calcolare un ipotetico target al rialzo, quello che potremmo fare è andare a vedere la distanza tra questo trend line a ribasso e questo punto di minimo, andiamo a tracciarlo in maniera veramente, magari non estremamente precisa, ma diciamo una rottura rialzo della trend line, scusate, della nuvola, dei prezzi potrebbe portare il titolo intorno a 2,65 euro su per giù. Però, ripeto, al momento il grafico è contrastato, abbiamo un grafico a 4 ore che è improntato al ribasso e un grafico giornaliero che sta invece lottando con i livelli di supporto. Quindi al momento starei molto attento e soprattutto starei attento a fare il corretto sizing del trade, quindi non utilizzare tutto il capitale al ribasso, ma stando molto attenti. Perfetto, chiarissimo. Allora, nel frattempo che passo la palla a Matteo, io lancio l'altro sondaggio sui cambi valutari, così avete più tempo per rispondere. Matteo, ti passo la palla. I cambi sono Euro-Dolloro, Dolloro-Canadese e Dolloro-Yen. Ok? Così avete tutto il tempo dalla risposta di Matteo su Intera San Paolo. Ok, mi senti? Forte e chiaro, sì, sì. Ok. Allora. Condivido. Ok, spero che si veda il grafico. Allora, questo qui è il grafico d'intesa su time frame giornaliero. Ora sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, quindi sicuramente una cosa importante è cercare di gestire la size su un titolo di questo tipo o in generale sui titoli del comparto finanziario. Perché, come dire, le tempeste non passano nel giro di poche settimane e non passano attraverso delle semplici raccomandazioni oppure dicendo che tutto va bene. Quindi, come avevamo espresso anche negli incontri dell'anno scorso dove chi di voi ha partecipato, insomma, spero si ricordi che eravamo nel medio e lungo periodo non particolarmente bullish sul comparto azionario. Ecco, io la stessa cosa la confermo attualmente. Quindi potrebbe recuperare il mercato nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi, però credo che ci siano sul tavolo una serie di problematiche che non possono essere risolte nel giro di poche giornate borsistiche. Quindi massima attenzione in tal senso. Per quanto riguarda invece l'aspetto prettamente tecnico, allora qui ho tracciato questo canale che è quello in cui si è mosso intesa nel recente mercato ribassista, vediamo che attualmente ci troviamo a testare la parte superiore di questo breve canale. Quindi effettivamente un'ulteriore spinta rialzista potrebbe portare alla violazione di questo livello con un primo target molto stretto da posizionare qui nei pressi dei recenti massimi, seguito poi dalla media mobile a 50 periodi circa 2,4. Come ha detto Alessandro, usando altre indicazioni, però su per giù è la stessa, cioè lui ha tracciato la trendline, qui vediamo un canale, poco cambia, ma l'analisi tecnica ci dice che in caso di violazione della trendline o in questo caso di un canale, un possibile target è proiettare sul punto di breakout la dimissione stessa del canale. Ed è quello che vi ha già mostrato Alessandro, ecco uno scenario che oggi ci sembra un po' estremo, almeno personalmente mi sembrerebbe un po' estremo, vorrebbe dire che il mercato è ritornato con vigore in un mercato fortemente rialzista. Io personalmente starei un po' più cauto sul comparto finanziario. Ecco, qualora invece ci sia una nuova spinta al ribasso, quindi un ritorno sulla parte media del canale, nei pressi di 2,2 che oltretutto combacia anche col minimo di questa candela, ecco penso che in tal caso, avendo conferme anche da parte dell'indice, non soltanto quello italiano ma anche quello americano, l'arrivo di un nuovo mercato ribassista potrebbe essere molto probabile. Quindi questo livello lo identifico come un punto di stop loss di tipo tecnico non monetario, però comunque sempre stop loss si tratta, o eventualmente un livello su cui si può pensare di intraprendere delle posizioni ribassiste di breve periodo con un target successivo nei pressi di 2,1 e qualora ci fosse la violazione anche di 2,1 addirittura nei pressi di 2 euro. Ecco, vi faccio notare che a differenza del Fuzzibib qui abbiamo una media mobile a 200 periodi che a memoria mi sembra sia un po' più vicina ai prezzi attuali, quindi anche questa va tenuta fortemente in considerazione, perché il cambio di tendenza su una media mobile così ampia che è sinonimo del comportamento del ciclo annuale dei mercati finanziari, ecco allora potrebbe davvero innescare una spinta ribassista significativa, cosa che nei prossimi mesi si potrebbe magari non verificare, però insomma l'anno è lungo e quindi stiamo a vedere un attimino cosa succederà. Matteo, per quanto riguarda invece un oscillatore che è l'RSI, lo vedete qui posizionato, ha identificato in maniera diciamo abbastanza egregia la fase ribassista, aveva identificato anche una divergenza rispetto all'andamento rialzista dei prezzi, cosa che poi è stata confermata appunto da questo sell-off nel mese di marzo, ora effettivamente sta segnando un timido recupero, quindi diciamo conferma un po' lo scenario che vi abbiamo già evidenziato. Matteo, perfetto, ti volevo fare proprio questa domanda, mi senti? L'avrei terminato anch'io. Mi senti? Mi sentite? Sì. Ok, sì, ti volevo fare proprio la domanda sull'RSI, sia sul Fuzzimib che sull'intesa, ma hai risposto benissimo, quindi al mio dubbio. Ti volevo fare un'altra domanda, perché magari chi ci sente dice ma perché io non dovrei andare short già adesso e aspettare quella candela lì? Sì, quindi se riusciamo magari a dare… Sì, io la risposta lo so, però magari diamo… Voglio dire, può andar bene, però al momento non abbiamo un chiaro segnale rialzista e nemmeno un chiaro segnale ribassista. Ecco, sappiamo che il mercato tende comunque a muoversi con violenza, soprattutto durante le fasi ribassiste, perché in poco tempo si mangia tutto il movimento fatto in un periodo e lo vediamo qui. Ecco, insomma, il mercato sale per le scale, lo vediamo piano piano e poi dopo l'improvviso con 5-6 candele si è rimangiato tutto questo movimento. Quindi è ovvio che si può anticipare, però dobbiamo anche essere consapevoli che anticipare il mercato talvolta può andare bene, talvolta possiamo farci male. La cosa importante, qualora qualcuno di voi volesse fare una strategia di questo tipo, è avere ben preciso e possibilmente in macchina un livello di stop loss. Quindi nel momento in cui uno dovesse dire, bene, io posso prendere una posizione short ora, perché penso che il settore finanziario, in questo caso il titolo intese, possano andare incontro ad un'ulteriore fase di ritracciamento, va bene, la domanda che farei è dove posizioni lo stop loss. Ecco, personalmente metterei uno stop loss non oltre questo livello. Ok? Perfetto. Quindi lì eventualmente la posizione sarebbe da chiudere in perdita. È ovvio che si tratterebbe di una strategia un po' più di ampio respiro, quindi diamo un attimino di tempo al mercato per poter valutare effettivamente la tendenza che andrà a generarsi. Ecco, io penso che in generale comunque dopo questo movimento ribassista il mercato possa avere qualche seduta di assestamento, prima di darci effettivamente un'informazione un po' più chiara e precisa su quale potrebbe essere il trend nelle prossime settimane. Perfetto. Ti chiedono solo il trend ribassista annuale, quando potrebbe innescarsi? È possibile già da quest'anno? Puoi ripetere Fabio? Il trend ribassista annuale, quando potrebbe innescarsi? È possibile già da quest'anno? Ma assolutamente sì. Cioè, allora, dal mio punto di vista siamo già in un trend ribassista. Sì, lei già è ribadito prima. L'ho già ribadito varie volte. Allora, e lo vediamo meglio sul mercato americano questa cosa. Un mercato che adesso ha difficoltà a generare nuovi massimi, sembra che si trovi più in una fase di distribuzione rispetto ad una fase di accumulazione, potrebbe essere sbagliato questo scenario? Assolutamente sì. Una conferma a tal proposito l'avremo qualora ci fosse un ritorno veloce sui recenti massimi relativi o recenti massimi assoluti. Ecco, in quel caso, qualora ci fosse appunto un ritorno violento, in termini anche di tempistiche, allora potrei, diciamo, cambiare idea. Se questa cosa però non dovesse verificarsi, per il momento, posso anche sbagliarmi, non ho un sentiment particolarmente positivo sul comparto equity. Cioè, non vuol dire poi non fare nessun tipo di trading, attenzione. Però vuol dire magari che non è l'occasione, diciamo, più interessante da un punto di vista tecnico, chiamiamolo così, per poter sovrappesare in maniera significativa il portafoglio. Perfetto, allora passo la palla ad Alessandro e analizziamo euro-dollaro, ok? Ok. Ok. Ok, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Ok, allora. Allora, abbiamo detto euro-dollaro. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, adesso stiamo vedendo il grafico giornaliero. Vedete nel grafico giornaliero, utilizzando semplici Moku, abbiamo, per prima cosa, la partenza del trend rialzista che è partito in, diciamo, il 23 settembre del 2022, l'euro-dollaro è toccato 0,99 e mezzo, e poi è partito questo rimbalzo che ha portato l'euro-dollaro adesso ad essere 1,08. Vedete che per Icimoku la vera partenza del trend rialzista è avvenuta più tardi ed è avvenuta 1,02,8 in concomitanza di questa candela rialzista dell'11 novembre, quando anche la lag in line ha rotto il rialzo la nuvola. Dove ci troviamo adesso? Icimoku ci dice che il mercato ha testato nuovamente la nuvola, lo vedete qui come i prezzi abbiano testato la parte bassa della nuvola, in alcune giornate hanno anche rotto la parte bassa della nuvola, cosa che però, se vedete qui, e per chi ha un po' più di dimestichezza con Icimoku, vedete che la lag in line in realtà, che per come uso io Icimoku è quella che in realtà comanda nel grafico, vedete che la lag in line è lei che ha trovato supporto sulla parte alta della nuvola, quindi al momento, in quello che ci dice Icimoku, che il trend ha perso sicuramente vigore, perché i prezzi è da un po' che sono all'interno della nuvola, però il trend è ancora improntato al rialzo. Al momento quando Icimoku ci potrebbe segnalare un'inversione di tendenza, sul grafico giornaliero Icimoku ci dice che se l'eurodollaro dovesse scendere sotto gli 1,057, ecco in questo caso avremo che la lag in line, questa linea ocra va a rompere la nuvola di Icimoku, e quindi ovviamente anche il cross valutario andrebbe sotto la nuvola e questo darebbe là probabilmente a un nuovo trend ribassista. Il suggerimento che vi do io è sull'eurodollaro, e poi probabilmente vedremo anche gli indici obbligazionari, in questa fase, in questa particolare fase della storica che stiamo vivendo, ci andrei veramente molto cauto, perché gli indici obbligazionari, ma anche l'eurodollaro, stanno vivendo una fase di volatilità estrema, dovuta al fatto che i mercati sono guidati al momento realmente dalle parole delle banche centrali, e quindi ho un dato sull'inflazione che sotto le attese potrebbe veramente spostare in maniera assolutamente imprevedibile sia i cross valutari, sia gli indici obbligazionari. Comunque, guardando l'analisi tecnica, quello che ci dice il grafico giornaliero è che il mercato è ancora improntato a una fase improntato al rialzo. Se invece dovessimo andare a vedere il grafico, come abbiamo fatto prima, a 4 ore, vedremmo che anche qui il grafico a 4 ore, il mercato è in una fase rialzista, che però è iniziata a 1.06. Quindi entrare adesso al rialzo, se uno volesse guardare il grafico a 4 ore, probabilmente sarebbe in ritardo sul segnale iniziale. Al momento non ho grandi spunti operativi su questo cross. Dal punto di vista tecnico al momento non ho grandi spunti, se non, come ho detto, nell'eventualità che il cross dovesse rompere l'area 1.05. e considerazioni personali sono che l'area euro la ritengo sempre molto, ma è estremamente più debole rispetto agli Stati Uniti, quindi un proseguimento del rafforzamento dell'euro sul dollaro non lo vedo particolarmente probabile. Ok, perfetto, tutto chiaro. Allora facciamo come prima, io lancio l'ultimo sondaggio, e guarda caso proprio sugli indici obbligazionari, più che altro non per operare sugli indici, ma per capire i BTP e cosa possano fare, o comunque eventualmente i tre sordi. Matteo, ti passo la palla, e andiamo a parlare di euro-dollaro, e diamo il tempo a tutti gli utenti di rispondere all'ultimo slide. Mi senti? Il porto è chiaro, sì, sì. Ok, ora proviamo così senza microfono. Sì, effettivamente quello che è attuale è condivisibile, cioè dopo il test nei mesi finali dell'anno scorso, del livello di soglia principale 1, ecco, con della parità, abbiamo avuto una spinta rialzista che, come vedete sul grafico che ora vi sto mostrando, si sta concretizzando in una fase lateralità sostanzialmente tra 1,05 e 1,1. Ecco, qui vi ho messo appunto un piccolo canale inclinato in maniera leggera al rialzo, però credo che questo sia lo stato attuale del mercato euro-dollaro, che non sia effettivamente caratterizzato da una spiccata tendenza, ma sia invece figlio di una lateralità, nonché di una indecisione, probabilmente da un punto di vista macro, da un punto di vista economico, proprio per tutte le questioni che sono sul tavolo. Effettivamente, se poi andiamo ad analizzare anche un indicatore di tendenza come è il parabolixar, ecco, è ovvio che vedendolo nel passato è facile da commentare, no? Però ci dà appunto l'idea, la sensazione che siamo in una fase di lateralità, il fatto che il parabolico, come vedete qui, è stato rotto e violato varie volte, dando dei segnali contrastanti. Quindi questa fase rialzista si è in verità subito in una fase ribassista, che a sua volta dopo due sole candele si è reinvertita, di nuovo rialza, eccetera, eccetera. Ecco, ora ci troviamo invece da circa sette, otto candele in una fase segnalata rialzista da parte del parabolico. Questa fase coincide con la parte mediana di questo canale, quindi vedrei in caso di allungo, in caso di rottura di questo recente massimo relativo di questo piccolo movimento giornaliero, un primo target nei pressi di 1,1, quindi più o meno in coincidenza con la parte superiore del canale. Un ritorno nella parte inferiore invece c'è 1,05, ecco, in quel caso potrebbe essere un po' più preoccupante perché qualora ci sia una violazione dal proposito, secondo me un ritorno nei pressi della parità potrebbe diventare qualcosa di probabile. Dico potrebbe perché nel momento in cui appunto l'euro si dovesse indebolire nei confronti del dollaro, ecco, credo che potrebbe rappresentare il fatto che ci sia stato un incremento della crisi finanziaria o problematiche di questa natura. Ecco, l'Europa da questo punto di vista è sicuramente più debole rispetto all'America. Gli americani, l'abbiamo visto varie volte nel corso della storia, insomma, hanno magari generato loro stessi, passatemi il termine, il problema, quindi la cosiddetta bolla, e poi questa bolla si è sviluppata negli altri contenuti, in particolar modo in Europa e magari in maniera anche più viva. Ecco, direi comunque in conclusione che effettivamente sull'euro-dollaro siamo di fronte a 3-4 mesi di sostanziale lateralità tra 1,05 e 1,1, quindi per ora comprare sulla parte bassa del canale e rivendere sulla parte media o eventualmente sulla parte superiore. Per ora non farai molto, molto di più. Perfetto, tutto chiaro. Allora, passo la palla ad Alessandro. Su l'euro-dollaro non vedo tante domande, quindi andiamo avanti. BTP Future, sia per la negoziazione sui future, sui CFD, sui BTP, ma soprattutto per chi ha in pancia i BTP, di che fare. Allora, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Allora, quello che vediamo... Scusate. Quello che vediamo adesso sul grafico è il BTP Futures. Ovviamente è spaventoso, come hai detto tu Fabio, chi era in pancia i BTP, cosa deve fare? È spaventoso il movimento che è stato fatto nell'ultimo periodo per la lotta all'inflazione, che ha portato il BTP Futures da 150 al livello di adesso, intorno ai 110. Facciamo prima un'analisi del grafico, vediamo come la grandissima volatilità che stiamo vivendo dall'ultimo quarters del 2022 anche al primo quarters del 2023. Il mercato ha trovato, diciamo, ha trovato un supporto in area 109, nel BTP Futures ha trovato un supporto in area 109, ma vedete che sta... la volatilità si sta, diciamo, comprimendo, vedete che si sta creando questo triangolo e lo vedete, appunto lo si vede qua nel grafico. Qua sarà molto interessante perché, come vedete, ci stiamo avvicinando piano piano alla... diciamo, all'apice di questo triangolo e solitamente quando si hanno figure del genere dopo si ha nuovamente un'esplosione di volatilità, quindi adesso stiamo vedendo una compressione e per poi vedere in seguito un'esplosione della volatilità. Esplosione della volatilità che sarà o al rialzo nell'eventualità che il Futures abbia la possibilità di rompere questa linea ribassista o al ribasso se il Futures va a rompere il supporto a area 109. Quello che ci dice Cimoku al momento non ha grandissime informazioni perché vedete come come solito sia i Cimoku nelle fasi di lateralità come sono queste anche se hanno lateralità con grande volatilità i Cimoku non è in grado di segnalare con di dare punti operativi utili perché è un indicatore di tendenza non è un indicatore che performa bene la lateralità. Quindi l'indicazione che ho su BTP Futures è andare a vigilare su questi su questi due trend line questa ribassista e questa diciamo statica in area 109. Per quanto riguarda invece la domanda che facevi tu Fabio cosa fare se si hanno BTP in pancia qui allora la risposta a parer mio è abbastanza semplice se si ha la possibilità di cioè se i BTP sono entrati in portafoglio anni addietro probabilmente adesso fanno veramente molto male e andare e se si ha la possibilità di tenere di tenerli a scadenza sarebbe secondo me non particolarmente brillante andare a venderli adesso se non per utilizzare diciamo i benefici fiscali delle perdite altrimenti da tenere da tenere da tenere fino a scadenza per quanto riguarda invece un'allocazione di portafoglio adesso dopo anni e anni che abbiamo vissuto con i tassi a zero adesso i rendimenti sul sul comparto obbligazionario tornano ad essere interessanti quindi per chi non dovesse essere esposto alla duration sarebbe secondo me il momento il momento utile per ritornare ad avere un'esposizione su questa asset class è il momento di farlo queste sono ovviamente considerazioni mie personali è il momento giusto di farlo sul BTP italiano e questo va un po' alla sensibilità e alla propensione al rischio del singolo investitore quello che dico sempre io è che noi siamo già sovra esposti verso il rischio paese italiano perché sostanzialmente la sanità l'istruzione e diciamo tutte le infrastrutture sono legate al rischio Italia quindi noi come cittadini italiani abbiamo un rischio Italia già estremamente elevato andare a concentrare anche l'esposizione obbligazionare sul BTP italiano non lo ritengo una idea brillante perfetto perfetto allora passo la palla a Matteo ecco abbiamo qui il grafico appunto del BTP vediamo che come ha detto Alessandro dopo una fase di forte discese adesso sembra appunto che siamo di fronte ad una situazione di accumulazione questa cosa secondo me dal punto di vista tecnico è abbastanza evidente anche dall'incrocio di queste due semplicissimi medi mobili a 50 e 200 periodi vediamo che c'è stato un taglio al ribasso su questo grafico questo è un grafico settimanale non so se ho detto giornaliero prima per errore comunque a dicembre del 2021 che ha innescato questa fase ribassista dei prezzi ora le due medi si sono avvicinate molto quindi qualora ci dovesse essere un taglio a rialzo è ovvio che con questo semplicissimo indicatore che in realtà può servire per fare un po' di operatività ma più che altro serve per dare un filtro sulla tendenza di medio e lungo periodo del mercato ecco lui ci segnalerebbe che siamo in un nuovo mercato di tipo rialzista con un orizzonte abbastanza ampio che è appunto quello giornaliero allora il problema poi sul BTP come ha detto come ha detto Alessandro dipende molto dalle condizioni economiche dalle scelte anche di politica monetaria delle banche centrali non soltanto quella europea ma indirettamente anche quella quella americana la cosa che vi volevo mostrare non ve l'ho fatto vedere nei precedenti grafici per questioni di tempo però si potrebbe utilizzare anche questo nuovo grafico che è chiamato interruzione di riga sostanzialmente questo è un grafico molto interessante che è privo di base temporale si basa solo su sulle variazioni dei prezzi ecco lui ci sta segnalando adesso una fase di di discesa però questa fase di discesa come detto rientra più in una fase di accumulazione quindi io su questo anche su questo prodotto starei particolarmente particolarmente accorto la cosa interessante ma oggi chiaramente non è l'occasione giusta per parlarne è quella che il mercato obbligazionario in logica intermarket può essere usato per ricercare delle conferme e anche delle previsioni sul prossimo comportamento del mercato del mercato azionario credo che abbiamo già parlato di queste cose in precedenti incontri relative all'intermarket poi abbiamo anche mostrato all'interno di alcune pubblicazioni che abbiamo fatto in questo è una cosa aggiuntiva rispetto diciamo alla semplice analisi del mercato stesso ecco individuare poi dei livelli operativi di trading direi che in caso di ritorno sopra area 117 ecco qui effettivamente questo potrebbe essere il punto dove si potrebbe avere una conferma di una nuova spinta riazzista vedete che è stato sicuramente un tap down che si potrebbe chiudere ma un ritorno su questi livelli sarebbe anche una conferma di un incrocio di questi medi immobili come vi ho segnalato e oltretutto avremo anche la violazione dell'indicatore parabolico sul grafico settimanale come vedete che coincide esattamente con la media immobili a 50 periodi in questa fase tutto tutto molto chiaro davvero allora io ricordo a tutti che questo webinar è stato registrato e sarà presente in video library credo già oggi pomeriggio verso le 17 se no domani mattina non vedo particolari domande ricordo a tutti che tutti gli strumenti che abbiamo analizzato a parte le azioni l'azione Italia San Paolo sono negoziabili chiaramente anche quindi gli indici i future sulle obbligazioni tramite future tramite anche i CFD sul sottostante future se vi è dell'operatività quindi delle delegazioni di short si può attivare la marginazione si può andare in short selling come detto prima da sia Matteo che da Alessandro attenzione le sites operative perché non gestendo le sites poi uno rischia di farsi del male col trading invece di far del bene dal proprio portafoglio e ricordo a tutti quanti i prossimi appuntamenti sto organizzando sia per Alessandro sia per Matteo i webinar per maggio e faremo dei webinar dedicati magari Alessandro ha utilizzato molto il Cimoco quindi magari vedremo il Cimoco con Fineco X vediamo cosa riusciamo a organizzare e con Matteo magari siccome hai parlato dell'anese intermarket proveremo a organizzare qualcosa del genere quindi andremo a toccare anche questi argomenti un po' più di macroeconomia ringrazio tutti quanti Alessandro e Matteo grazie davvero per la spiegazione di oggi un saluto un saluto buona giornata grazie ciao ciao